Ciao, sono Monica D'Impara, l'inglese con monica.com e nella lezione di oggi voglio condividere con te il significato dell'Idiom of the Week che ho selezionato per te questa settimana. The idiom of today is to cross the line. To cross the line means to cross some threshold into unacceptable or inappropriate behavior. L'espressione idiomatica to cross the line significa quindi superare il limite, esagerare, oltrepassare una certa soglia. Facciamo una frase di esempio. Speaking that rudely to your teacher definitely crosses the line. Parlare in maniera così maleducata con la tua insegnante è stata sicuramente un'esagerazione. Bene, per oggi è tutto e ti aspetto alla prossima settimana con un nuovo Idiom of the Week. E nel mentre ti invito a condividere questo video e a taggare una persona alla quale credi questa espressione idiomatica possa essere di interesse. A presto! A presto!